Listen, read, speak, Italian. If you're new to this method, read the description below. If you like this method, hit the like button, subscribe, and leave a comment below. Il tempo e il calendario. Che data è oggi? Quale giorno della settimana? Che ore sono? Oggi è lunedì 6 aprile e sono le undici e mezzo. Che giorno era ieri? Che giorno sarà domani? Ieri era il 5 aprile. Domani sarà il 7 aprile. In quali giorni lavori? Lavoro dal lunedì al venerdì. Quando è il tuo compleanno? Che giorno sei nato? A che ora? Il mio compleanno è il 10 agosto e sono nato di domenica alle 15. Quando sono i compleanni dei tuoi genitori e dei tuoi fratelli? Il compleanno di mio padre è il 2 maggio e quello di mia madre è il 25 novembre. Mio fratello maggiore ha il compleanno il 15 giugno e quello del mio fratellino è il 3 dicembre. Quali sono i tuoi giorni preferiti e meno preferiti della settimana? Il mio giorno preferito della settimana è il sabato perché posso rilassarmi e fare attività che mi piacciono. Il giorno meno preferito è il lunedì perché devo tornare al lavoro dopo il weekend. A che ora ti svegli e vai a dormire? Mi sveglio alle 7 e vado a dormire alle 23. Qual è il giorno della settimana più difficile da ricordare per te? Il giorno della settimana più difficile da ricordare per me è il mercoledì. Puoi dire i giorni della settimana al contrario? Sì. Posso dire i giorni della settimana al contrario. Domenica. Sabato. Venerdì. Giovedì. Mercoledì. Martedì. Lunedì. Cosa fai durante il fine settimana? Il sabato faccio spesso attività all'aperto. Vado al parco o faccio una passeggiata. La domenica mi piace leggere o guardare un film. A che ora mangi? Solitamente mangio la colazione alle 8. Il pranzo alle 13 e la cena alle 20. Quali sono i mesi più caldi e più freddi dove vivi? I mesi più caldi sono giugno, luglio e agosto. Mentre i mesi più freddi sono dicembre, gennaio e febbraio. Quali sono i tuoi mesi preferiti e meno preferiti? Perché? Il mio mese preferito è luglio perché mi piace il caldo e posso andare in vacanza. Il mese meno preferito è novembre perché fa freddo e piove spesso. Dove sei cresciuto? In quali mesi iniziava e finiva la scuola ogni anno? Sono cresciuto in Italia e la scuola iniziava a settembre e finiva a giugno. Hai una stagione delle piogge? Che mese è? No. In Italia non abbiamo una stagione delle piogge, ma solitamente da novembre a febbraio piove molto. Qual è la tua stagione preferita e meno preferita? La mia stagione preferita è l'estate perché mi piace il caldo e posso fare attività all'aperto. La stagione meno preferita è l'inverno perché fa freddo e piove spesso. Quali sono i giorni dell'anno più lunghi e più corti? Non lo so esattamente. Ma penso che il giorno più lungo dell'anno sia il solstizio d'estate e il giorno più corto sia il solstizio d'inverno. Quanti anni hai? Quanti anni hanno i membri della tua famiglia? Io ho 22 anni. Per quanto riguarda i membri della mia famiglia? Mia mamma ha 46 anni. Mio papà ha 48 anni. Qual è l'amicizia più lunga che hai mai avuto? L'amicizia più lunga che ho avuto è di 20 anni. Conosco il mio amico Roberto da quando ero all'asilo. Qual è il periodo più lungo in cui hai vissuto in un posto? 20 anni. Dove? A Napoli. Quanto tempo in totale? Sono nato a Napoli e ho vissuto lì fino a due anni fa quando mi sono trasferito a Perugia per frequentare l'università. Chi è il membro più anziano della tua famiglia e quanti anni ha? Chi è il più giovane e quanti anni ha? Mia nonna di 85 anni è il membro più anziano e mio nipote neonato di appena pochi mesi è il più giovane.